E così adesso a quanto pare abbiamo anche la Putin's List, ovvero una lista in cui gli Stati Uniti d'America hanno creato una sorta di potenziale proscrizione per praticamente tutti i politici russi e tutti i maggiori esponenti dell'apparato industriale russo, compresi il ministro degli esteri, Lavrov, compreso il primo ministro Medvedev e la cosa straordinaria è che in questa lista di potenziale proscrizione figurano sia gli uomini molto vicini a Putin, indubbiamente quelli che possono essere chiamati gli uomini di Putin, come Igor Sitchin, il capo, il boss dell'apparato petrolifero di Stato Rosneft e sia quelli come per esempio Abramovich che con Putin non hanno mai legato e che hanno pensato bene di togliere le tende e rifugiarsi nel caso di Abramovich nel Regno Unito. Ora il contrasto politico tra le nazioni non è una novità, in qualche modo la pressione politica, addirittura l'intimidazione, anche questa non è una novità e indubbiamente la Russia per gli Stati Uniti negli ultimi tempi è diventata un avversario tosto, un avversario insidioso perché basta pensare a quello che è successo in Siria, a quello che è successo in Ucraina, ai piani che la Russia ha scombinato rispetto ai desideri dell'amministrazione americana. Però resta una domanda che non ha nulla a che fare con la partigianeria politica anche se naturalmente ci sarà subito chi dice questo è filo russo, questo gli piace Putin eccetera eccetera. La domanda è ma si può scomunicare, bandire sostanzialmente, mettere al bando una nazione di 142 milioni di abitanti che si estende su 10 fugi orari dal cuore dell'Europa al cuore dell'Asia, una nazione che oggi piaccia o non piaccia ed è del tutto legittimo che non piaccia, è protagonista del mondo, una nazione che ha alleanze strategiche importanti, per esempio con la Cina, insomma una nazione intera che conta e di questa nazione dire che chiunque abbia a che fare con la politica a un certo livello e chiunque abbia a che fare con l'economia a un certo livello è un nemico, perché questo è il significato della Putin's List, della lista di Putin che il Ministero del Tesoro americano responsabile appunto di questo tipo di iniziative ha appena emesso. Ecco a me sembra, onestamente, al di là del merito, anche se la Russia fosse, come pensano e dicono gli americani, uno stato canaglio, uno stato pericoloso e tra l'altro non sarebbe certo l'unico sulla faccia della terra, compresi molti con cui gli Stati Uniti vanno perfettamente d'accordo, ecco è possibile immaginare di mettere al bando una nazione, ripeto, di 142 milioni di abitanti estesa su 10 fusi orari, una nazione importante, una nazione potente, una nazione con cui peraltro gran parte del mondo civilizzato ha normali relazioni o quasi normali, perché anche l'Europa che pure ha adottato le sanzioni contro la Russia si fa serenamente e tranquillamente rifornire di gas e petrolio dalla Russia stessa. Ecco a me del possibile si sono ormai così sfrangiati da confondersi con quelli dell'immaginabile, se non addirittura con quelli del sognabile.